eccoci ciao gente questo è il mio negozio allestito in un modo che è tutto svendita quindi se venite quando è tutto piena stagione ovviamente è disposto in una maniera molto più in ordine ecco diciamo così allora vi ho fatto questa carrellata qui eccolo lì che mi sto riprendendo mi vedo lo specchio però mi nascondo ecco qui mi nascondo e volevo solo farvi un presente che da domani per tutto il mese di agosto eccetto il 15 che è chiuso per agosto acquistate 5 capi ok non importa il prezzo perché qui c'è tutto dai 9 ai 35 euro quindi acquistate pur che siano 5 capi non mi darebbe il prezzo acquisite un buono di 10 euro spendibile da metà settembre poi con un nuovo pulso e lo spendete quando volete eccetto quando ci sono promozioni vendite cose succede quindi approfittate tutto il prossimo mese da domani acquistate 5 capi acquisite un buono di 10 euro spendibile da metà settembre in poi cosa volete più della vita vi aspetto ciao